Va male? No. È grave, dottore? No. No, grazie al cielo nessuna lesione importante. Dobbiamo prendere provvedimenti, tanto più che lo sceriffo non potrà svolgere in pieno le sue funzioni per molto tempo. Sono preoccupato, Novak. Anch'io. Quella era gente disposta a tutto e con scopi ben precisi. E il tuo? Lo vedi che faresti meglio a darmi retta e a portare una pistola? Venite avanti. Riconoscete questi due? Certo, sono due di loro. Congratulazioni, Kadli. State diventando davvero preziosa. Kad, consegnali allo sceriffo. Andiamo. Questa volta non ve la caverete. Aggressione, tentata violenza, rapina e chissà quanti altri reati troverà il giudice. Sbattivi dentro. Muovetevi. Signor Cooper, lo sapete chi sono quelli? Gente di Barton, non mi piace affatto la loro presenza da queste parti. Che possiamo fare? Beh, io sarò impedito ancora per parecchio tempo. Quindi l'unica soluzione ragionevole mi sembra quella di offrire almeno temporaneamente la mia carica a chi ha veramente dimostrato di meritarsela. Io sono d'accordo con voi. Sì, certo Cooper. L'unica persona in grado di sostituire lo sceriffo è il nostro Kadli. Kad, mi farai un vero piacere se accetterai. Tutta Silvertown ne sarà lieta, Kadli. Avanti. Accetta la stella. Su. Sì, 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 sì.